Stefano, tutto bene? Benissimo. Ma ti hanno colpito? Chi? I teppisti. Quali teppisti? Quelli che si sono imboccati alla festa. Dove? Alla festa di Giugiola. Che festa? Questa festa! Ma che vi siete fumati? Alberto, mi accompagno a casa. Non posso, non ho la macchina. Perché non chiediamo un passaggio a quel bel ragazzo nell'aggiu?